Si riforma la squadra degli Acchiappa Fantasmi dispersa dopo la precedente avventura. C'è ancora bisogno di loro. Sigurni Buiver, che fu l'amante del capo dei Ghostbusters, ora chiede il suo aiuto. Il suo bambino, avuto da un seguente matrimonio, mostra propensioni diaboliche, colpa degli strani accoppiamenti della mamma nell'avventura precedente. Urge esorcizzarlo prima che rada al suolo la quinta strada e zone limitrofe.